musica 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 guida guida stai andando eh accenso stata stiamo arrivando a pescara una rivente cittadina della brutta che ci sono troppo stiamo tornando dalle ferie stavagata Valeria si è abbafata c'ha la diarrea cronica la piruzzi c'è fritte e cornetti con l'autostrada con il tunnel stiamo nel tunnel stiamo nel tunnel la pescara proprio disperta 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 nelle montagne proprio Valeria che sta superando il limite di velocità ecco pescara nord pescara centro pescara 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 stiamo incovernati pescara pescara da l'autoveco pescara 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 Pazzaro. Esco un po' di grattaccia. Ah no. Ma lo dobbiamo oltrepassare. Allora, mantenete la sinistra. C'è fuori. Madonna, parlato. Ecco le nostre prontiste. Sono abbastanza come potete vedere. Ma c'è una pasta al forno. Ma la pasta al forno. Ma quando ce la mangiamo la pasta al forno? C'è la festa della megadula. C'è la festa della maglia. Non fai. Sì, sono solo le panie. E' da casa tu, è tu. C'è la festa. Dov'alto? E' da dove abbiamo visto. Tra 800 metri tenete la sinistra. Va bene, va bene. Abbiamo capito. Ok. Noi chiediamo il contatto. Tenete la sinistra. Chiediamo il contatto. Chiediamo la sinistra. Siamo a resa lunga. It's hard to be lost. Ciao. Siamo fuori. Ho messo il tunnel.